Le vaccinazioni per i più piccoli ed in particolare la campagna di informazione tra i punti all'ordine del giorno di una riunione della sesta commissione consigliere permanente che si occupa di sanità avvenuta poco prima di Natale. Un incontro che ha coinvolto anche la sezione locale della FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri, e che si ripeterà anche a breve con la convocazione di un'ulteriore seduta che si svolgerà a inizio della prossima settimana per vagliare iniziative e ulteriori soluzioni utili ad incrementare e incentivare le vaccinazioni nella fascia di età che va dai 5 agli 11 anni. A fare il punto sulla somministrazione dei vaccini per i più piccoli e sulle possibili conseguenze del Covid nei bambini, il pediatra Alessandro Cupani, in rappresentanza della FIMP locale. Ci siamo messi già in contatto con il segretario della Federazione Pediatrica, il dottore Pietro Salamone, che aveva dato la disponibilità. Abbiamo avuto un incontro il 23 dicembre con il delegato del dottore Salamone, che era il dottore Alessandro Cupani, c'era anche presente il sindaco, perché la Commissione Sanità ha voluto fortemente, e devo dire che in questo la consigliera Giovanna Mulè si è espressa e ha chiesto alla Commissione, sull'iniziativa di fare questa azione che è importante perché è proprio quella di promuovere e di comunicare quanto più alla popolazione e alla cittadinanza di Sena quello che è l'importanza della vaccinazione dei bambini da 5 a 11 anni. La collaborazione deve essere massima con le istituzioni e il Comune deve dare la disponibilità rispetto a quelle che possono essere le necessità anche poste e che porranno i pediatri. Il dottore Cupani ci ha spiegato veramente l'incidenza di questa problematica del Covid, che cosa può portare ai bambini. È stato molto interessante conoscere questo argomento. C'era anche il sindaco presente, il sindaco ha dato ambia disponibilità a collaborare e a portare avanti le iniziative che possono essere utili.